Furto al tabacchi del distributore esso ad Eboli, poco lontano dallo svincolo autostradale. I ladi la scorsa notte hanno sventrato l'entrata del tabacchi ed hanno rubato molte secche di sigarette e poi sono fuggiti via con l'aria furtiva, che ammonta ad oltre 15.000 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, che la scorsa notte appena sono stati allertati si sono precipitati al distributore di carburanti, ma ovviamente i ladri erano già fuggiti. Gli investigatori hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori del colpo ed eventualmente recuperare l'aria furtiva. Nei mesi scorsi, sempre al tabacchi del distributore esso, in zona San Giovanni, fu messo a segno un altro furto e in quell'occasione fu utilizzato un SUV per sventrare l'entrata dell'attività commerciale e poi furono rubate numerose stecche di sigarette e gratte vinci.